182 Lelia Non posso uscire nemmeno per andare a messa. Una vecchia macchina da scrivere sostituisce qualche riga a penna. Ciao, saluti da Teresa. Ecco mamma. Fra Raffaele, mio carissimo. Come ti ha scritto papà, sono stata poco bene, con febbre per circa tre giorni, ma ora sto quasi bene, ma non posso uscire nemmeno per andare a messa. Adesso è ritornato Francesco dalla spesa. Ha incontrato fratello Lorenzo. Immagina quello che gli ha detto della gita a Caprarola. Roberto è tornato a Castello. Quando verrà a Roma per gli esami lo potrò vedere. Troppa fatica per scrivere a macchina. Come vedi, dopo la C la macchina salta, è proprio scatorcia. Sto aspettando la tua lettera mensile e dopo ti risponderò a lungo. Papà ancora non prende il resto del permesso, ma sta abbastanza bene. Tu prega assai per tutto e per tutti. O secchi superiori, salute con fratelli. A te tutte le più sante benedizioni da mamma.